Grazie Domenico, come già ricordato prima, quest'anno festeggiamo i 30 anni di approfondimenti e di ricerche sul tema di rischio e responsabilità comunale. Abbiamo iniziato nel 1993 e in tutti questi anni abbiamo portato avanti questo impegno delle pubblicazioni perché finora nella collana rischio e responsabilità abbiamo pubblicato 24 volte. Per questa attività così importante io voglio ringraziare Valdemaro Flick che so che ci segue da remoto per il suo fondamentale contributo a questo filone di attività e per il continuo stimolo che secondo me adazio non solo all'interno della fondazione, non solo a livello nazionale ma anche all'interno di livello internazionale proprio sull'attenzione al rischio e alla responsabilità in realtà. E lo voglio veramente ringraziare di tutto. Mi associo a tua ringraziamento a Valdemaro. Certo, certo, in velocità di licenza. Quindi questo nei vari anni dovrebbe essere un po' il percorso. In modo da coprire proprio tutte queste attività che al momento non sono così seguite dal punto di vista del punto di vista. Io mi fermo, mi pare che abbiamo anche rispettato i tempi. Auguro buon lavoro a tutti. Lascio la parola a Maurizio Flick per la sessione giuridica. Grazie. 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 Grazie.